un po' la morale che mi sta venendo in mente, chi ha seguito i servizi, lo sforzo di documentare quello che succedeva in Ucraina, di analizzarlo sia in Ucraina che in Russia che in Italia che nel mondo durante queste cinque settimane ricorderà che fin dall'inizio, fin dalle prime notti di febbraio e all'inizio di marzo avevamo notato proprio guardando le mappe, guardando le cartine che mostravano quello che l'esercito russo stava facendo in Ucraina, che probabilmente l'obiettivo finale di Costoro era chiaro e tremendo e consisteva in due cose, tre anzi, a una apparentemente per il momento, forse rinunciato, dicevo ricorderete che avevamo osservato tre obiettivi. Una, che è quello a cui forse hanno rinunciato, però almeno temporaneamente, vediamo cosa succederà nella prossima settimana, era quella di prendere Kiev, occupare la capitale, deporre il governo o probabilmente ucciderli, io credo, arrestarli, cose di questo tipo, credo che gli americani ne fossero consapevoli e per quello avevano offerto subito l'elicottero, del trasporto insomma al Presidente ucraino e i suoi uomini per mettersi in salvo, sostituendolo con un governo fantoccio di stile bielorusso. Questo non gli è riuscito. Il secondo obiettivo era a distruggere tutto ciò che trovavano, distruggere le città ucraine, distruggere le fabbriche, distruggere gli impianti elettrici, distruggere la capacità produttiva, distruggere, distruggere con centinaia e centinaia, migliaia di missili e con artiglieria di lunga distanza tutto ciò che aveva valore in quel paese ed era distruttibile in quella maniera. Ah no, lo stanno facendo da quasi 40 giorni e mi pare non abbiano alcuna intenzione di smettere, nonostante le false assicurazioni promesse come al solito a cui tutti poi credono, perché c'è una diffusa voglia di credere che Putin alla fine si ravveda, che Putin si sia semplicemente confuso, che gli oligarchi russi, che il governo russo, che l'apparato militare russo abbiano preso un po' un abbaglio, insomma se non era brava gente alla fine si ravvederanno e finirà tutto. E quindi ogni volta che rilasciano qualche dichiarazione che poi si rivela regolarmente falsa di riduzione dell'attività bellica, cosa succede? Succede che i giornali, in particolare quelli italiani, ma non solo quelli italiani, cominciano a mettere la pace da tutti gli angoli e la vedono arrivare. Desiderio legittimo però purtroppo, visto che tutti si beano di essere molto realisti e freddi analisti politici, desiderio del tutto pio e privo di ogni fondamento, perché il giorno dopo scopriamo che invece i bombardamenti sono continuati, i missili continuano a cadere in ogni dove e la distruzione continua. Quindi questo secondo obiettivo, quello di praticamente radere al suolo il Paese, portarlo allo Stato all'età della pietra, cacciarne decine di milioni di abitanti, è l'obiettivo credo centrale di questo attacco russo ed è un obiettivo che dopo 40 giorni stanno perseguendo. Il terzo obiettivo, eravamo notato, era prendersi una fascia di terra come una specie di mezzaluna che girava dal nord dell'Ucraina, poi andava verso est, passava ovviamente per la zona del Donbass, poi si ricollegava attraverso Mariupol e la striscia di terra lì alla Crimea, con il tentativo di arrivare a Odessa. Oh scusatemi. Stanchezza. Ora forse Odessa per il momento non è sotto attacco, anche se mi dicono, me lo confermerete voi, che la televisione italiana, ma solo la televisione italiana, io ho provato a verificare altre fonti di informazioni, non ci sono. Mi è stato detto che la televisione italiana parla, oggi ha parlato ripetutamente, di attacchi su Odessa, bombardamenti su Odessa. A me non risultano per il momento, ma non c'è alcuna ragione di pensare che non arriveranno, non ricominceranno di nuovo. Comunque, questa mezzaluna che diventerà territorio occupato russo e castrazione quindi del paese chiamato Ucraina. Ecco, a me pare che gli ultimi due obiettivi siano quelli che ancora vengono perseguiti dai russi. E se ci pensate, sono degli obiettivi tremendi, sono degli obiettivi tremende.